Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe! Come vedete ragazzi mi trovo qui da Cephalon Simaris perché è ormai una settimana buona che ho la nuova sfida per il livello maestria sbloccata e volevo togliermi il dente perché ogni volta che vado ad aprire il menu di gioco mi campeggia lì in alto e continuo a ricordarmi che ho questa incombenza da portare a termine. Eccola qua. E quindi ho deciso di togliermi il dente prima di andare ad affrontare i video sulle armi Tenet prima di vedere tutto il resto, prima di vedere la nuova Nightwave volevo togliermi di mezzo questa nuova sfida. Avevo fatto un paio di prove quando avevo portato a casa il Master Rank 28 e avevo fatto delle prove appunto con Sevagot e ho visto che come Warframe è forse la scelta migliore che si possa fare per andare ad affrontare questa sfida per il Master Rank 29. E quindi eccomi qui pronto con Sevagot non lo uso da un pochino spero di ricordarmi come si fa anche se in realtà non andrò ad utilizzare nessuna delle sue abilità se non la sua passiva che è l'ideale per questa sfida ma lo vedremo una volta che siamo durante appunto il test. Le ricompense per questo livello di Master Rank sono le solite quindi 500 di limite reputazione con le fazioni 5000 di limite reputazione giornaliera focus un più uno alla capacità base delle mod e 50 tracce di void in più. Bene, detto questo ragazzi iniziamo subito il test Bene, eccoci qua allora la sfida consiste nell'eliminare 100 nemici che vanno via via a crescere di livello ogni 10 nemici che elimineremo il livello dei nemici successivi sarà incrementato il che rende via via più difficile appunto l'eliminazione di questi nemici che ci si pareranno davanti inoltre ogni volta che un Warframe verrà eliminato la sfida si resetterà e dovremo ricominciare da capo e inoltre abbiamo al massimo 3 tentativi per riuscire a portarla a termine per questo motivo ragazzi vi dicevo che Sevagot è l'ideale perché ci consente di non preoccuparci troppo della vita del nostro Warframe visto che quando viene atterrato non andiamo in Bloodout quindi non perdiamo il tentativo ma passiamo alla forma spettrale che ci consente quindi di continuare la sfida perché possiamo in questo modo eliminare altri 5 nemici e nel contempo possiamo recuperare la vita del nostro Warframe quindi due piccioni con una fava ragazzi l'altra complicazione di questa sfida è che abbiamo un tempo limite partiamo da 15 secondi che vanno via via a decrescere e ogni volta che eliminiamo un nemico guadagniamo dei secondi che si vanno ad aggiungere a questo contatore questo contatore però non viene incrementato oltre i 15 secondi il che ci rende un pochino difficile se non continuiamo ad avere una costanza nell'eliminazione dei nemici riuscire a portare a casa la sfida come vi dicevo Sevagot secondo me è il Warframe ideale per questa sfida perché oltre appunto alla sua forma spettrale ha anche una discreta resistenza il che ci consente di affrontare nemici di livello altissimo senza troppe preoccupazioni io adesso sto facendo la sfida appunto senza curarmi così tanto della mia vita e anche dovessi finire nel sarcofago so che con la forma spettrale ce la faccio tranquillamente a recuperare la vita del mio Sevago come armi mi sono portato dietro due delle armi Tenet che ho recuperato nei giorni scorsi la Tenet Arcaplasmor e l'altra come secondaria che è quella che di fatto sto utilizzando ragazzi perché mi piace veramente tantissimo come arma è la Tenet Sychron vuoi perché fa davvero un sacco di male vuoi anche perché quando i nemici sono vicini il suo attacco spread da un nemico all'altro quindi è ancora più letale ragazzi ora come vedete sono nella mia forma spettrale stavo per cadere nel vuoto scidenti e non ho nessuna difficoltà nell'eliminare i nemici in questa forma per fortuna sembra che stia filando tutto abbastanza liscio non sto guardando sono a 67 ok quindi siamo praticamente a due terzi della sfida ragazzi ora ecco non so perché ogni tanto si diventa un po' difficile fare le mercy l'animazione non parte subito non che sia un problema perché possiamo anche non farle le mercy però già che c'è la possibilità di ottenere magari una sfera di salute o di energia perché non sfruttarle e quindi ogni tanto mi piace anche poterle utilizzare come vedete i nemici bene o male sono sempre gli stessi ogni volta che ne eliminiamo uno ne spawna un'altra esatta copia pronta a essere nuovamente eliminata il livello dei nemici continua ad aumentare adesso siamo a più 50 quindi adesso abbiamo di fronte dei nemici di livello intorno al 100 se vedo bene e niente ragazzi per il resto questa è la sfida non bisogna prestare troppa attenzione secondo me al timer perché tanto sappiamo che abbiamo pochissimi secondi quello su cui bisogna fare molta attenzione è il posizionamento in modo da avere un ritmo costante nell'eliminazione di questi nemici perché se ci troviamo troppo lontani rischiamo di perdere dei secondi preziosi che potrebbero voler dire perdere la sfida ok ecco qua vedete ne ho sistemati oh oh sono arrivato a 100 non me ne sono neanche accorto ottimo perfetto ragazzi quindi la sfida per il maestro medio per il livello 29 del master rank è completato non me l'aspettavo sinceramente di essere già arrivato a 100 nemici quindi sono molto contento di questo risultato bene detto questo ragazzi direi che ci vediamo sulla stazione spaziale per i saluti finali bene eccoci qua sulla stazione larunda devo dire ragazzi che utilizzare sevagoth è stata una felice intuizione sinceramente quando ho fatto la prima prova con lui e ho visto che di fatto era il warframe ideale per affrontarla naturalmente immagino che ci siano altre scelte altrettanto valide altrettanto interessanti e quindi sono curioso di sapere qui intanto abbiamo la targhetta che dimostra appunto che ho raggiunto il grado di maestro medio che ho raggiunto il master rank 29 come ormai consuetudine e stavo dicendo sono curioso di sapere voi quale warframe avete utilizzato per la sfida quale armi avete utilizzato come vi siete trovati in generale nell'affrontare questa sfida se l'avete già affrontata se ancora la dovete affrontare beh mi auguro che questo video possa esservi di aiuto e nei commenti qua sotto possiate trovare una strategia valida anche per voi detto questo ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video ciao 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 ciao